La brillante risoluzione dell'omicidio della moglie del notaio è riuscita a sdoganare i bastardi di Pizzo Falcone. Fintanto che il commissariato non chiuderà, potranno occuparsi anche di omicidi. Un nuovo caso da risolvere arriva nel cuore della notte. Due anziane nobile donne dell'aristocrazia napoletana, di ritorno da una partita di Burraco, assistono all'omicidio del loro autista, ad opera di due uomini con il casco a bordo di una moto. Le indagini condotte dallo Iacono e dai suoi colleghi rivelano un passato malavitoso della vittima. Dunque si potrebbe ipotizzare un banale regolamento di conti. Ma un altro omicidio, che si scoprirà avere un diretto collegamento con il primo e con altre morti del passato, svelerà nuovi e sorprendenti scenari.